Questo è innanzitutto uno spettacolo che fa ridere, fa molto ridere. È un musical che è stato scritto dai Monty Python, che sono un gruppo comico inglese, attivo prevalentemente negli anni 70, anche se sono in attività anche oggi. Sono il re, re Artù, un re Artù a cui non ne va dritta una, a cui nessuno obbedisce e se obbediscono fanno delle cose che non vanno mai dritte. È interpretato da un cast eccezionale di attori che sono in grado di fare tutto, cantare, ballare, recitare. Io interpreto Sir Lancillotto, sono il cavaliere coraggioso, temerario, killer, che però nasconde un segreto che durante lo spettacolo uscirà fuori. Sono Sir Robin e sono il meno coraggioso di tutti, amante di un'arte, una disciplina dello spettacolo che si scoprirà appunto venendo a vedere Spamalot, quindi mi raccomando vi aspettiamo. Io sono Filippo Musenga e interpreto Sir Bedevere o Bevedere e il tratto di mio cavaliere è che sbaglia, come potete vedere. Fa molto ridere, per cui è indispensabile, se si è tristi, assistere almeno una volta a Spamalot. Da un lato è da molto tempo che io penso, insieme con i miei soci, a pensare e scrivere un musical. Dall'altro devo dire che tra interpretarlo e scriverlo ci passa tanto, per cui può essere che adesso, approfittando dello scioglimento della band, ci sia molto più tempo libero per pensare e creare un musical all'altezza però degli elio e le storietese, insomma. Sir Galahad, che è un contadino che però viene insignito di questo titolo di cavaliere. Sono Luigi Fiorenti e in questo spettacolo interpreto sei ruoli, lo storico, l'uomo non morto, il menestrello e alla fine c'è questo principe che riserva un sacco di sorprese. Io sono Pamela Lacerenza e interpreto la Dama del Lago, che è con lei che ha forgiato la spada Excalibur per Re Artù. Che volete combinare quest'anno a Sanremo? Dove volete arrivare? Ultimi? Sì, noi arriviamo tranquillamente ultimi anche perché noi andiamo al festival in quanto invitati dal grandissimo Claudio Baglioni che ci ha chiesto di salutare tutto il pubblico dal prestigioso palco del Teatro Areston. Quindi sanciremo lo scioglimento di questa band storica dal palco. Quindi ecco perché non abbiamo ambizioni di classifica, andiamo con un brano che è esattamente quella cosa lì, cioè un saluto e un ringraziamento a tutto il pubblico. Alla fine, beh sì, il 30 giugno è il termine ultimo che ormai è stato sancito. Saremo in scena al Teatro Augusteo fino a domenica e poi il 4 febbraio e poi saremo al Teatro Brancaccio dal 13 al 18 febbraio. Venite, venite, venite.